oh buonasera l'emba come state? vi fate sentire qua presente c'è là sotto dove stanno tutti i costitzi di una cosa che va nella capitale d'italia? ok mettiamo le cose una cosa chiamata Eddie Hammer sono avuto ai controlli let let uno da ieri let voce andiamo regà tutti quelli che sono qua forse la sana bella segata di musica me che è minacciato normalmente così chi ce l'ha da un centino ve lo accende qui quanto sei bella roba iniziamo così l'era roba non 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 Sì Non c'è nessun mio destra Ma non mi vado un'altra volta più Ma non ti vado un'altra volta più Grazie a tutti Grazie a tutti